Salve a tutti. Ormai lo sappiamo bene, siamo in piena emergenza sanitaria e tutti ci troviamo a lottare contro questa pandemia. Ma questo messaggio è per delle persone fantastiche, meravigliose, eccezionali. Degli angeli per noi in terra in questo momento. Qualcuno li chiama eroi, ma questi eroi sono gente comune che a casa hanno famiglia, figli, genitori. Conosco tanti medici, conosco tanti infermieri e tanto personale sanitario e molti mi scrivete preoccupati, allarmati, perché smettendo quei turni lunghissimi avete paura di tornare a casa per portare il contagio a casa e mettere a rischio la vita dei vostri cari. Io penso di interpretare il sentimento di tutti gli italiani. Siete nel nostro cuore. Mi commuovo solo a pensarvi. Siete nelle mie preghiere e siete nelle preghiere di ogni uomo e donna credente e che ha fede. Ce lo diciamo tutti andrà tutto bene e ho visto tanti i vostri cartelli. Io resto in corsia, tu resta a casa. È vero, noi dobbiamo restare a casa e voi siete lì in corsia. È assurdo che dovete operare anche in situazioni di precarietà. È assurdo che in tanti ospedali manchino mascherine professionali per proteggervi. Camici, guanti per proteggervi. È assurdo, è assurdo tutto ciò. Ma non è questo un messaggio di polemica ma sicuramente un messaggio per mandarvi il mio grande abbraccio fraterno e paterno da sacerdote, da uomo di fede, assicurarvi la mia preghiera e soprattutto dirvi a nome mio e a nome di tantissimi. Vi vogliamo bene, resistete e abbiate forza con tutto il cuore. Grazie perché ci siete, grazie per quello che fate per noi. Ciao!